E allora amici ben ritrovati in questo nuovissimo video, oggi come da titolo un video molto richiesto andiamo a fare un bel confronto dedicato ai Fritzbox visto che ci troviamo a novembre, quindi tra poco offerte Black Friday, regali di Natale tanti di voi magari stanno pensando di cambiare il proprio modem e quindi di passare ad un Fritzbox semplicemente per migliorare la propria connessione ad internet ma anche la propria rete wifi io da oltre un anno collaboro con Fritz, quindi con AVM e quindi ho avuto la possibilità e la fortuna di testare tre modelli su quattro che appunto andrò a consigliarvi in questo video ma prima di iniziare il video lasciatemi ricordare una cosa importantissima perché tantissimi di voi guardano i miei video ma non sono iscritti al canale, non vi costa nulla ma per me è veramente fondamentale per far crescere il canale quindi aumentare i video, la qualità e la quantità del video e le collaborazioni future quindi mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanella per essere aggiornati su tutti i video futuri perché ho deciso di realizzare questo video confronto selezionando quattro Fritzbox di cui appunto tre come vi dicevo li ho provati e ci sono anche i vari video dedicati sul canale innanzitutto c'è da dire una cosa come anche ho accennato prima io collaboro con Fritz, ho questa fortuna, questo piacere ma ci tengo a dirvi che le nostre collaborazioni sono del tutto gratuite c'è da dire che io essendo comunque appassionato di tecnologia, di telecomunicazioni, di connettività hanno notato il mio canale, gli sono piaciuto e mi hanno proposto di collaborare per provare i loro prodotti mi piace essere trasparente con voi perché spesso, non so, a volte c'è anche il tifo da stadio sui vari prodotti di tecnologia quindi arrivano subito le persone che nei commenti dicono eh ma tu sei influenzato, ma ti pagano o magari ti danno il prodotto gratis e quindi ne devi parlare per forza bene no, addirittura se andate a vedere io già tanto tempo fa ho realizzato video dedicati ad AWM, a Fritz con prodotti che io ho acquistato e già utilizzavo da tempo a casa mia chiuso il discorso volevo precisare questo prima di iniziare il video allora oggi quasi tutti siamo raggiunti da una connessione a banda larga che significa? una connessione veloce che è sicuramente superiore alla vecchia e cara ADSL no, che si fermava se si era fortunati a 20 mega o siamo in FTTC quindi fibra misto rame, che significa fibra misto rame? è quella fibra che arriva in strada all'armadio stradale e che poi arriva a casa nostra con il caro e vecchio doppino telefonico col vecchio cavo in rame poi c'è la seconda tecnologia verso cui si sta puntando, verso cui andremo a migrare prima o poi nei prossimi anni, cioè la FTTH Fiber to the Home lo dice proprio l'acronimo fibra a casa, fibra verso casa quindi è una fibra ottica, quindi un nuovo cavo che ci viene portato dentro la nostra abitazione ciò significa che rispetto alla vecchia rete in rame è una rete totalmente nuova che quindi va proprio fatta da zero quindi va fatta la rete principale, la rete primaria in strada, gli armati stradali e poi la rete secondaria che è praticamente l'ultimo step, l'ultimo miglio ci collega nelle nostre abitazioni la rete fibra ottica in Italia in questo momento è divisa su due operatori che non sono però provider perché forniscono l'infrastruttura ma non vendono direttamente la connessione di internet a noi Fiber Coop che veniva precedentemente gestito da Tim ma sappiamo che adesso che Tim è stata venduta quindi tutta la parte diciamo di rete è stata venduta però diciamo noi chiameremo Tim Fiber Coop ancora per un fatto di semplicità e poi il secondo è Open Fiber che nasce dalla volontà anche dello Stato italiano accelerare un po' i tempi sul passaggio in fibra ottica soprattutto per cablare tutti quei comuni, le cosiddette aree bianche dove gli operatori privati non hanno interesse perché appunto sono a fallimento di mercato Open Fiber nacque all'epoca con Enel, all'epoca si chiamava Enel Open Fiber eccetera eccetera perché questo? Perché la fibra ottica essendo comunque un raggio luminoso, essendo una luce può convivere insieme anche ai cavi elettrici e quindi in moltissime installazioni, soprattutto quelle in aree bianche quindi del famoso piano bull molti di voi faranno caso che appunto i cavi in fibra ottica passano anche sui tralicci dell'elettricità cosa fanno questi due operatori? praticamente realizzano la rete, vanno a fare la manutenzione sulla rete e vendono, affittano la rete ai vari provider che possono essere Tim, Wind, Vodafone eccetera 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 un'altra cosa di cui dovremmo iniziare a parlare è anche la rete interna insomma diciamo la verità va ormai tutto su wifi o comunque su rete cablata che io preferisco sempre di più rispetto alla rete wifi perché comunque la rete cablata dà sinonimo di stabilità rete interna cosa significa? la possibilità e la velocità di scambiare dati internamente alla nostra rete nel futuro avremo sempre più dispositivi in casa connessi e quindi tutti questi device devono viaggiare innanzitutto su una rete wifi o cablata di buona qualità soprattutto devono essere amministrati e gestiti da un cervello in grado di non far bloccare il tutto senza creare ingorghi da qui arriviamo al modem il modem cosa fa? praticamente prende la connessione ad internet e appunto ce la rende disponibile attraverso appunto rete wifi o rete cablata un modem che in questo caso fa anche da router e che quindi va proprio ad amministrare al meglio tutto questo traffico di dispositivi e device connessi nella nostra rete ora voi state pensando che io vi voglio far cambiare il modem assolutamente no questa innanzitutto non è una televendita io non vi voglio vendere nulla potete anche pensare che io sono matto che vi faccio spendere un sacco di soldi per un modem quando poi il modem viene dato spesso gratis o comunque incomodato d'uso dall'operatore telefonico dal nostro provider oggi uno smartphone di 300 euro per tanti di noi è uno smartphone sì buono ma comunque uno smartphone mediocre e quindi anche se non ci serve ci piace avere uno smartphone che costa il doppio se non il triplo ci scandalizza il fatto che un buon modem costi 300 euro questo è semplicemente un fatto che noi siamo sempre stati abituati ad avere il modem gratis dall'operatore o comunque incomodato d'uso o comunque con delle piccole rate quindi non si è mai dato il giusto valore al modem che è proprio il cervello come vi dicevo prima la parte principale della nostra connessione sia di internet ma anche la connessione interna pensiamo soltanto ai tanti dati che vogliamo magari conservare quindi creiamo dei backup connessi in rete con degli hard disk connessi in rete e quindi attraverso un NAS oppure abbiamo dei server multimediali per appunto conservare tutti i vari contenuti video audio eccetera eccetera e quindi vogliamo metterli in rete e quindi ascoltarli poi in casa o vederli sulle varie postazioni tv o pc di casa quindi avere anche una velocità interna superiore al gigabit secondo me questa è una cosa che in un futuro imminente dobbiamo iniziare ad analizzare i modem degli operatori telefonici sono comunque buoni fanno il loro lavoro però magari alcuni non sono progettati per utilizzi più intensivi abbiamo bisogno di un qualcosa di più prestante di più affidabile ma anche di semplice da gestire da configurare perché parliamoci chiaro non è che tutti qui siamo smanettoni tecnici informatici spero di non avervi annoiato con tutto sto preambolo però arriviamo finalmente ai nostri cari fritzbox e che in questo momento utilizzo per casa e per lo studio e qui ho proprio portato due modelli che attualmente sto proprio utilizzando in questo momento la connessione adesso è gestita da questi due modelli qui il 7590X e il 7690, il nuovo 7690 fritzbox è davvero un'ottima soluzione non lo sto scoprendo io, non sto scoprendo l'acqua calda seppur non è che i prodotti siano perfetti ma il prodotto perfetto difficilmente esiste cioè il prodotto che veramente completa tutte le nostre esigenze non esiste quindi fatta questa premessa posso anche dirvi che magari potrebbe anche non bastare un fritzbox dentro casa se abbiamo tanti metri quadri da coprire o più piani in quel caso poi bisogna aggiungere dei repeater, cablati, wifi, delle powerline insomma non è che solo il fritzbox vi risolve tutto il problema partiamo da quello che costa di meno ovviamente a salire ad andare proprio verso il top di gamma in assoluto partiamo con fritzbox 7530 AX che è l'evoluzione del vecchio 7530 viene aggiunto il wifi 6 molto semplicemente parleremo tanto in questo video di wifi 6, di wifi 7, compagnia bella ma dopo andiamo anche a vedere se effettivamente vale la pena o non vale la pena aggiornare il modem per avere il wifi 7 il 7530 AX credo sia proprio il best buy ma non perché è quello che costa di meno ma diciamo che è proprio il modem base per amministrare e gestire la vostra connessione ad internet che sia una FTTC o una FTTH perché comunque apporte gigabit e quindi può benissimo gestire anche una connessione in fibra ottica FTTH gigabit sappiamo bene oggi che la fibra ottica FTTH viene portata in due modi o viene installato un ONT che è praticamente un apparecchietto che si alimenta a parte e che appunto va a convertire il segnale ottico che arriva appunto dal cavetto in fibra ottica quindi il segnale luminoso in segnale elettrico quindi col classico cavetto Ethernet oppure alcuni operatori forniscono direttamente il modulo SFP che va inserito direttamente nel modem che viene fornito proprio dal provider e che va quindi a bypassare l'ONT esterno e quindi va a convertire il segnale in fibra ottica direttamente nel modem diciamo che se sulla vecchia rete in rame ormai c'è la possibilità del modem libero per legge sulla nuova connessione FTTH non tutti gli operatori vi concedono la possibilità di avere il modem libero ma comunque per via proprio del fatto dell'ONT magari interno vi costringono per forza di cose ad accettare il loro modem se volete appunto stipulare il contratto avendo il modem dell'operatore telefonico nessuno vi vieta di utilizzare un altro modem o di utilizzare in questo caso un fritzbox in cascata se non potete direttamente collegarlo alla rete non c'è problema per la rete FTTC perché tutti i fritzbox hanno l'ingresso DSL con il super vectoring quindi con il profilo a 300 mega quindi la velocità massima che si può appunto usufruire dalla rete in FTTC in fibra misto rame per quanto riguarda la fibra ottica quindi la FTTH se avete l'ONT esterno non c'è problema perché entrate in una porta WAN o in una porta LAN a seconda della disponibilità sul modello configurate in modo semplice la connessione se invece la vostra connessione in fibra ottica passa dal modem dell'operatore telefonico quindi attraverso il moduletto SFP o chiedete l'installazione di un ONT esterno bisogna vedere questo è a discrezione del provider oppure per forza di cose dovete comunque tenere il modem principale del provider collegato e collegare però in cascata un fritzbox ricordiamoci che tutti questi fritzbox sono anche dei centralini VoIP quindi gestiscono anche la parte telefonica quindi si possono anche configurare numeri VoIP Wi-Fi 6 quindi è aggiornato comunque alla penultima tecnologia perché adesso parliamo di Wi-Fi 7 ma il Wi-Fi 7 è talmente nuovo che veramente non esiste ancora nulla se non veramente i device top di gamma smartphone top di gamma PC, notebook, laptop top di gamma Wi-Fi 6 è ancora una tecnologia direi di ultima generazione quindi 1800 megabit più 600 megabit quindi gestita sulla banda 2.4 e 5 gigahertz quindi 1800 sulla banda 5 gigahertz e 600 megabit sulla banda 2.4 ha 4 porte LAN gigabit la porta 1 può essere utilizzata come porta 1 nel caso andiamo a collegare l'ONT quindi per la fibra FTTH porta telefonica analogica e una porta USB 2.0 quindi utile soltanto magari per collegare stampanti in rete che sì possiamo collegare benissimo anche un hard disk o una pennetta ma sappiamo bene che la velocità della 2.0 è veramente scarsa devo dirvi che questo modem ha funzionato bene l'ho utilizzato per oltre un anno collegato a H24 quindi per gestire la connessione in FTTH perché purtroppo spoiler io non ho ancora la fibra ottica la stiamo attendendo insomma arriverà prima o poi però non ha proprio tutte quelle caratteristiche dei modelli superiori però diciamo che nei suoi limiti ha le funzionalità essenziali utili alla maggior parte di voi secondo me secondo modello che ho selezionato per voi ed è proprio quello che sto utilizzando attualmente per gestire la mia connessione FTTC ho fatto questo upgrade è il 7590 AX è aggiornato con il wifi 6 quindi AX sta proprio per l'aggiornamento al wifi 6 connessione DSL fino a 300 megabit abbiamo il wifi 6 2400 megabit in banda 5 e 1200 in banda 2.4 gigahertz un'ottima un'ottima banda di copertura appunto del wifi diciamo che questo anche a livello di dimensioni ovviamente è più grande del 7530 questo permette anche un hardware leggermente superiore ma soprattutto anche una dissipazione del calore maggiore come vedete porta DSL due porte telefoniche analogiche a chi serve insomma magari può far comodo c'è la porta One che serve o per collegare il modem in cascata ad un altro modem quindi ad un modem principale del provider oppure semplicemente per andare a collegare l'OMT della connessione in FTTH poi abbiamo 4 porte gigabit ovviamente anche la porta One è una porta gigabit e qui abbiamo come vedete due USB 3.0 che non sono aggiornate all'ultimo standard 3.2 quindi ancora più efficienti, veloci eccetera ma comunque sono 3.0 che rispetto al 2.0 già qui possiamo pensare di collegare un hard disk una chiavetta in rete per sfruttare la funzionalità del Fritz OS NAS va a creare un piccolo NAS casalingo ma più che altro per gestire magari non dati di archiviazioni di backup pesanti, importanti ma può essere molto utile per creare un piccolo media server per gestire video e audio in rete lasciatemi dire anche una cosa tutti questi prodotti Fritzbox per la parte telefonica hanno anche una porta TAE che sarebbe la porta tedesca può essere anche utilizzata e basta comprare un adattatore TAE RJ11 e potete avere anche un'altra porta telefonica per collegare un apparecchio telefonico se dal punto di vista software il Fritz OS praticamente identico ovviamente anche al 7530 qui abbiamo sicuramente un wifi superiore quindi più veloce e più efficiente abbiamo una banda maggiore e passiamo al terzo Fritzbox questo qui è proprio fresco fresco uscito da poco e lo sto utilizzando nello studio qui per gestire la connessione è il 7690 è il nuovissimo 7690 che introduce anche il nuovo standard wifi 7 ma ve lo dico subito è un wifi 7 un po' diciamo non originale diciamo così perché invece di viaggiare sulla nuova banda destinata al wifi 7 cioè la 6 GHz continua a viaggiare sulla banda 5 GHz e 2.4 GHz comunque si va a sfruttare tutta la tecnologia la nuova tecnologia del wifi 7 però sono andati un po' a risparmiare quindi hanno lasciato le due bande 2.4 e 5 GHz quindi le classiche bande del wifi andando però ad introdurre tutta la nuova tecnologia hardware e software del nuovo wifi 7 per non far costare troppo secondo me il prodotto visto che comunque è ancora una tecnologia limitata visto che ci sono ancora pochi device compatibili con wifi 7 la banda di questo wifi 7 è molto importante stiamo parlando comunque di 5760 megabit quindi quasi 6 gigabit in banda 5 1376 megabit in banda 2.4 ovviamente perché deve esserci una banda così importante su questo prodotto perché questo è il primo prodotto Fritzbox che ha anche la possibilità di collegarsi in 2.5 gigabit ha la porta One a 2.5 gigabit e ha anche una porta LAN aggiuntiva a 2.5 gigabit e altre due porte a 1 gigabit però purtroppo è un prodotto che secondo me è un po' incompleto lo consiglierei soltanto se si ha proprio la necessità di avere la doppia porta a 2.5 gigabit perché poi tra poco con il quarto Fritzbox invece c'è un compromesso quindi questo è il discorso che vi facevo all'inizio non esiste il prodotto perfetto purtroppo un po' per ragioni di marketing un po' per varie ragioni di scelte appunto in fase di costruzione che noi non sappiamo può essere collegato alla rete DSL quindi fino a 300 megabit quindi compatibile con FTTC due porte telefoniche classiche è un po' un prodotto incompleto dal punto di vista delle porte USB perché ha soltanto una porta USB però 2.0 è un prodotto che esce nel 2024 uscito poche settimane fa con una porta 2.0 è veramente una cosa posso dire imbarazzante cioè non si può non è nemmeno il fatto che noi qui utilizziamo il modem come NAS però diciamo che tantissimi utilizzano il modem per collegare un hard disk una chiavetta per condividere i file in rete ormai oggi è talmente anche diffusa la possibilità di farsi un NAS senza spendere una cifra esagerata che magari molti hanno anche proprio un NAS dedicato quindi non è che a noi ci serve il modem per fare il NAS però visto che nel vostro Fritz OS date la possibilità appunto di fare un piccolo NAS casalingo perché su un prodotto che esce nel 2024 mettete su una porta 2.0 che non esiste proprio dai ragazzi è veramente imbarazzante è un prodotto un po' a metà non è né carne né pesce però può essere molto utile si ha una connessione FTTH in questo caso lo consiglio FTTH 2.5 gigabit con ONT esterno quindi tramite ONT esterno cavo LAN entrate nella presa WAN a 2.5 gigabit e avete anche un'altra porta LAN in uscita 2.5 per collegare device che possono andare a 2.5 quindi come appunto un NAS come appunto un server un pc un qualsiasi device che va a 2.5 o anche collegare uno switch a 2.5 per crearvi poi la vostra rete interna a 2.5 che è molto molto più veloce della rete gigabit a cui siamo abituati da anni ormai no? la rete interna è importante perché è la velocità della vostra rete interna che fa anche la differenza per alcune applicazioni è un prodotto secondo me che è stato pensato bene però poi si sono persi un bicchier d'acqua perché secondo me anche per il costo perché siamo intorno ai 280 300 euro è superiore a 7590X però su alcune cose è inferiore al 7590X c'è anche da dire che questo 7690 introduce anche la compatibilità come vedete ZigBee quindi diventa anche hub per la domotica Dolcis in fondo se si vuole il top di gamma in questo momento secondo me a mio parere della linea Fritzbox 5690 Pro è l'ideale ma attenzione ve lo consiglio per chi ha la connessione in FTTH in fibra ottica perché tutti quelli che abbiamo visto fino adesso sono veramente super consigliati per la FTTC questo qui comunque è compatibile con FTTC ma ve lo consiglio proprio se avete la linea in fibra ottica in questo caso a 2.5 gigabit qui abbiamo il vero e proprio wifi 7 3 band viene introdotta proprio la banda 6 gigahertz wifi 7 eredita anche tutte le caratteristiche del 7690 quindi hub per l'automotica con DECT e ZigBee 11.530 megabit quindi stiamo parlando di 12 gigabit circa in banda 6 in banda 5 5760 e 1.2 in banda 2.4 come vedete abbiamo il modulo SFP per entrare direttamente con il cavo in fibra ottica la presa DSL la presa telefonica analogica la presa la presa One oppure LAN a 2.5 gigabit e poi abbiamo 4 LAN gigabit che gli costava mettere anche qui una presa LAN a 2.5 gigabit vedete a volte si perdono in un bicchier d'acqua però abbiamo anche l'introduzione della USB 3.1 questa si che è utile per farsi il NAS in casa collegando un hard disk in rete eccetera eccetera per fare anche da media server entrare direttamente col modulo SFP è un po' particolare il ragionamento informatevi prima col vostro provider prima di fare cambiamenti azzardati potete sempre usarlo potete sempre utilizzarlo in cascata al modem principale sfruttando appunto la porta One mi sento solo di criticare il fatto che non hanno messo anche un'altra porta 2.5 come hanno fatto sul 7690 tutti quanti condividono lo stesso Frizzo S quindi sono tutti quanti uguali a breve arriverà anche la versione 8 sui nuovi dispositivi quindi sul 7690 sul 5690 Pro comunque verranno tutti aggiornati a breve alla versione 8 che comunque va a migliorare ancora di più il Frizzo S e quindi perché cambiare modem potrebbe essere utile per avere innanzitutto una connessione wifi più prestante la compatibilità mesh poi perché potrebbe non bastare un Frizzo Box dobbiamo aggiungere i vari repeater quindi è importante poi la connessione intelligente mesh per l'interfaccia di configurazione che è veramente semplice facile perché cambiare modem per avere maggiori prestazioni e va bene amici come al solito vi lascio in descrizione i link di Amazon di questi 4 Frizz Box che ho selezionato per voi così andate a vedere i prezzi li mettete nel carrello e magari li tenete sott'occhio perché potrebbero andare in sconto alle prossime offerte del Black Friday del Cyber Monday in tutto questo periodo natalizio sicuramente sicuramente caleranno di prezzo e quindi se state già pensando da un po' di tempo di regalarvi un Frizz Box credo che questo sia il momento la parte dell'anno cui insomma conviene fare questa spesa perché troverete degli ottimi sconti come al solito per qualsiasi altra domanda curiosità sicuramente avrò dimenticato qualcosa ma nemmeno potevo fare il video di un'ora ci sono i commenti qui sotto quindi mi raccomando lasciate solo domande commenti attinenti ovviamente all'argomento di questo video proprio in ottica Black Friday lasciatemi ricordare che c'è il canale Whatsapp quindi mi raccomando iscrivetevi al canale Whatsapp Ubitech e in questo mese vi segnalerò un po' di offerte uscirà poi il solito video dedicato al Black Friday così come vi ricordo la pagina Patreon che è una piattaforma per sostenere i vostri creator preferiti anche lì trovate un sacco di contenuti inediti e il vostro abbonamento su Patreon sarà anche di sostegno al canale perché mi aiuterete a fare nuovi contenuti nuove collaborazioni nuovi video nuove idee vi ricordo anche Instagram chioccio o baldo di leva se volete seguirmi sui social ormai è l'unico social che utilizzo con un po' di frequenza quindi se vi va trovate il link in descrizione ma la cosa più importante come al solito mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanella per restare aggiornati su tutti i video futuri la vostra descrizione è fondamentale perché mi aiuta a crescere sapete bene gli algoritmi i numeri quindi se vi piacciono questo tipo di video in cui andiamo a parlare andiamo a confrontare un po' i prodotti che comunque porto qui sul canale fatemelo sapere perché realizzerò altri video del genere ci vediamo in un prossimo video ciao